Re Riccardo è morto, ucciso nell'assedio in Francia. Avete contato il tempo urinando nei chiostri come un animale in gabbia in attesa della liberazione. Ma io mi aspetto. Robin. Io avevo tutto prima che voi e il vostro re me lo portaste via. Ci sono molti uomini ricchi qui intorno che sarebbero felici di vedere Hood morto. Siamo nei guai. Lui non si fermerà. Tutto questo finisce oggi. Cos'è quello? Niente di buono. Ma hai mai capito quando era il momento di smetterla? La leggenda muore oggi. Non dimenticare che Robin Hood deve morire. Uccidetela! Troppo tardi. Nothingam è via. Che cosa vuoi? L'arcere è finito. Racconterò la storia di Robin Hood fino al giorno della tua morte. Stai bene? Ma è stata meglio. Grazie a tutti. È stato molto buono. Maceciamoci. Grazie.